Nella casetta di amici è successo un nuovo colpo di scena, che riguarda stavolta Petit e Marisol Ecco cosa è successo tra di loro. Il famoso talent show è condotto ormai da anni da Maria De Filippi e, grazie alla sua originalità, ha saputo conquistare i cuori di migliaia di persone I fan non possono infatti fare a meno di restare incollati al piccolo schermo, nell'attesa di scoprire tutte le sorprese e i vari colpi di scena che vengono rivelati ad ogni puntata Numerosi sono infatti stati i talenti scoperti dal programma, e che sono diventati negli anni dei veri e propri punti di riferimento Sta circolando adesso in rete un video che ritrae Petit e Marisol durante la notte. I due sono sempre più innamorati e adesso sono apparsi così Petit e Marisol beccati così. È successo di notte. I due giovanissimi allievi si sono innamorati proprio nel corso del talent show. E hanno dimostrato sin da subito di essere legati da un profondo amore Adesso, a poco tempo dalla fine di questo percorso, entrambi sono stati beccati in atteggiamenti, intimi, nel corso della notte Il filmato sta infatti facendo il giro del web e li ritrae insieme sul letto della loro camera Ad attirare l'attenzione è però la conversazione intrattenuta dai due artisti, che hanno fatto presente tutte le loro paure per il futuro Marisol si è infatti mostrata un po' giù di corda e, a quel punto, Petit le ha chiesto se non stesse più bene con lui Hai la stessa impressione che ho anche io alcune volte di te. Ha infatti detto la ballerina. Tranne quando mi cerchi Il cantante ha così confessato di avere tanta paura. E di temere che loro due non riescano a viversi fuori Abbiamo fatto tanto senza fare niente. Ha continuato lui. Non siamo andati al ristorante insieme. Non abbiamo viaggiato. Io vorrei fare questo L'allievo di amici ha anche parlato di come la sua fidanzata se ne stia per conto suo quando discutono Al contrario di lui che invece cerca di avvicinarsi per capire e per risolvere Non riesco a fingere o cercare di attenuare quello che provo? Ha detto Marisol Il rapper ha preso nuovamente parola e ha detto di essere anche lui arrabbiato con lei Perché dobbiamo discutere? A cosa serve? Io ci sto malissimo. Ha continuato lui. Ti amo Mari. Tanto Non voglio perderti, i due si sono così lasciati andare ad un potente e grandissimo abbraccio